Con la prolusione di Rosa Maria Abitetti, ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni, sul tema del cinema americano, economia e fallimento, è giunta alla conclusione questo pomeriggio il corso della Scuola di Liberalismo, che ormai da sei anni orsono opera sul Mona e nel 2013 ha conosciuto la collaborazione del polo scientifico-tecnologico Rico Fermi. Un ciclo di lezioni e approfondimenti che hanno ripercorso l'evoluzione del pensiero liberare organizzato dall'Associazione Progetto 2000 con il patrocinio della Fondazione Luigi Einauli. Il liberalismo è andato in ogni caso a braccetto con l'attualità e questo ha reso il corso molto interessante per gli studenti che peraltro hanno avuto la possibilità di incontrare di volta in volta illustri relatori e tra questi anche ex parlamentari. Come è nata questa idea e come si è evoluta lungo il tema? La Scuola di Liberalismo sul Mona ormai è una presenza da più anni, questa è la sesta edizione, quella che si conclude questa sera. Quest'anno abbiamo avuto questa esperienza con una collaborazione più stretta con il polo scientifico-tecnologico Enrico Fermi e quindi siamo qui appunto, le lezioni si sono tenute presso l'Istituto e abbiamo appunto sperimentato questa nuova forma di collaborazione con la scuola. Quali sono stati i principali temi trattati nel ciclo dell'incontro che si sono ottenuti di volta in volta? I temi hanno riguardato un po' tutto il pensiero liberale, cioè dall'aspetto storico, filosofico, economico, quindi le lezioni hanno un po' trattato tutti i vari argomenti cercando di dare un po' una idea di quello che è appunto il pensiero liberale e la sua evoluzione nel corso dei secoli e soprattutto la sua evoluzione oggi in relazione alle tematiche, alle problematiche del momento attuale. Recentemente, come previsto dal programma dell'incontro di formazione, gli alunni si sono recati nella capitale per visitare la sede della Banca d'Italia e quella della Presidenza della Repubblica. A rappresentanti degli studenti Andrea Ramunno abbiamo chiesto a tal proposito di tirare le somme di questa esperienza e dell'intero corso. È stata sicuramente una giornata da incorniciare, abbiamo visitato dei palazzi che per sentire o dire, sì, li vediamo in televisione ma non abbiamo mai avuto possibilità di visitarli, appunto la Banca d'Italia, il Quirinale, il Palazzo del Presidente della Repubblica. La cosa è stata molto positiva perché abbiamo esplorato un campo che spesso non approfondiamo molto bene. Al termine dell'incontro con la dottoressa Billetti si è proceduto alla consegna delle attestare di frequenza ai partecipanti del corso e alla premiazione delle tessine sviluppate dagli stessi alunni del Polo.